17 ottobre 2023, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, solamente il mio figlio Gesù è la vostra speranza e salvezza. Attendete il Signore con gioia. In Lui è la vostra piena felicità. Cercate i tesori del Cielo. Tutto in questa vita passa, ma la grazia di Dio in voi sarà eterna. Non perdetevi d'animo. Anche in mezzo alle tribolazioni, credete che tutto andrà bene per i giusti. Qualunque cosa accada, rimanete fedeli a mio figlio Gesù. Non vi allontanate dalla preghiera, perché solamente così potete sostenere il peso delle prove che verranno. Cattivi pastori apriranno porte larghe e una grande moltitudine camminerà verso l'abisso spirituale. Soffro per quello che avviene per voi. Cercate forze nel Sacramento della Confessione e nell'Eucaristia. Non vi dimenticate. La vostra arma di difesa è la verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.